ciao alcuni giorni fa è scomparso maurizio costanzo penso che sia un dolore per tutti che lasci senz'altro un grande un grande vuoto anche vista la pochezza dei giornalisti che ci sono attualmente penso che costanzo fosse a un livello nettamente nettamente superiore alla maggior parte di quelli che abbiamo a disposizione oggi come cultura come modo di fare come presenza come capacità e generosità anche nell'intervistare le persone lasciando loro lo spazio giusto cioè costanza non ha mai voluto essere protagonista delle interviste come invece avviene oggi dove l'intervistatore intervistatrice fanno domande lunghissime interrompono in continuazione i loro interlocutori e soprattutto vogliono essere protagonisti vogliono apparire nel video quasi che non importasse nulla quello che gli interlocutori hanno da dire dal toni li hai convocati tu li quindi dovresti dare loro il giusto spazio invece costanza no è sempre stato così generoso ecco vorrei dire questa questo termine anche se forse non è il più appropriato ma molto corretto professionale nel morizio costanzo show si metteva mezzo metro dietro agli ospiti come dire il protagonista sei tu e non sono io questi sono atteggiamenti decisamente decisamente importanti ci lascia senz'altro un grande vuoto non sono certo io il primo dirlo io non sono nessuno però a me mancherà quindi un saluto a signor costanzo mi dispiace che che lei che tu vabbè uguale non sia più in nei nostri nei nostri schermi ma vedremo una marea di di repliche di filmati di fin da quando conduceva bontà loro poi con tutte le edizioni per anni e anni del costanza show saluti